Ma che bello quel vino che riempie il bicchiere! E' venuto il momento centrale della nostra trasmissione, non è vero Michele? E' verissimo Stefano, stiamo parlando di... Allora facciamolo, non è vero Michele, è vero è il nostro momento centrale! Diciamo che è il momento chiave, si parla appunto di vino, assaggi di vini, si parla di un vino del nord Italia, se andiamo nella zona di San Michele all'Adige per parlare di Zeni, il terodogo di Zeniro Italiano. Lei è un po' accartocciata, comunque hai detto tutto quanto, hai detto un po' tutto quanto lui. Parliamo di un bel vino, di un bel vino e lo vogliamo presentare, glielo facciamo vedere a regia? Guardate che bello che è! Ma come si presenta, ma come si presenta bene! Con il suo bello bicchiere pieno, con un bellissimo colore. Ah, vogliamo ripresentare il nostro ospite di oggi che è Ricky dell'Enoteca del Teatro. Ciao Ricky! Ciao di nuovo! Quando fate questi ingressi fate un po' paura... Ciao, vieni a vedere questo vino! E' un po' un mix! Torniamo a essere seri, se mai lo siamo stati. E' un bel vino che si presenta in una bella veste, in una bella veste grafica, che è tipica poi di Zeni. Zeni lo cura molto, anche con il nuovo prodotto che sta lanciando, è vero? La Schwarzeroff. Sì esatto, o bianco o nero, lui ha questi due colori. Nero appunto si basa sullo Schwarzeroff. E invece l'altra linea, la linea proprio classica di Zeni ha queste etichette bianche molto pulite, che coinvolge anche i vini dolci. E tu lo sai come a me piacciono le etichette pulite, perché l'etichetta pulita ti richiama alla qualità. E' vero Ricky? Che vuol dire l'etichetta? Beh, comunque è la prima immagine, la prima trasmissione che dà un produttore del proprio prodotto. cioè il primo impatto che hai è visivo. Io delle volte rompo un po' le scatole a certi nostri produttori, perché effettivamente questo è un aspetto che andrebbe un pochettino più considerato. Perché comunque la prima immagine che si dà di un vino è quella. Adesso non deve essere assolutamente fondamentale e primaria, perché poi l'importante è quello che c'è dentro, però il discorso dell'etichetta è un discorso che è una bella firma del produttore. Sì, magari poi se non conosce le note caro, che è la prima volta che si affida suggerisci un buon vino, che sai, e anche l'etichetta aiuta, porta comunque a aver fiducia sia del vino e anche poi della persona. Sì, anche perché comunque la prima volta poi prendono anche solo per l'etichetta, poi se ti piace lo riprendi. Esatto, te lo ricordi. Comunque parliamo di questo vino che abbiamo poi precedentemente versato già nel nostro bicchiere e lo stiamo guardando roteare simpatico e garrulo. Io butto gli aggettivi così. Mi piace buttarli, mi piace inventarli. È un vino di una buona consistenza, vero Riccardo? Sì, questo è bello polposo. Si vede subito che è un vino che comunque dà un'immagine immediata del vitigno. perché comunque Teroldgo, se avete avuto il piacere di berli di più di un'azienda, comunque l'impatto è questo. Cioè un vino che comunque scende molto lentamente e ha un bel colore. Questo è un colore di vigna. Non è un colore, secondo me, costruito. Cioè un colore comunque che rimanda molto all'uva. All'uva, al vinoso. Guarda, quando abbiamo stappato la bottiglia l'odore della cantina si è sparso per tutto il nostro studio. Quindi dobbiamo dire che abbiamo una certa armonia tra il visivo e l'olfattivo immediato, vero Michele? Sì, di San Michele all'Adiz è sicuro. Dopo ci spiegherà un po' Rudy di com'è la zona. Diciamo che questo qui è un vino che ha questa lacrimazione molto vinosa, che anche ha un profumo molto pulito. Cioè molto tipico, come dicevamo prima, confrontandoci. Molto tipico del Teroldgo, varietà, dicevamo. Questa parola che ricorda questi frutti molto dolci. Sì, ci sono dei belli riconoscimenti in questo naso, anche se Ricchi prima mi ricordava, e voglio ricordarvi anche adesso, che poi non è che il naso sia la parte più eccezionale di un vino a Teroldgo, vero Ricchi? No, infatti, allora, questo è già un'eccezione nella media, perché comunque sia, questo già esprime qualcosa. Molto spesso, purtroppo, non è che ci siano dei nasi meravigliosi. Cioè nel momento in cui si apre tende molto quell'erbace o un po' umido che proprio tutto sto gusto non lo dà. Però in questo caso, secondo me, pur essendo un vino che non esprime un'ampiezza di profumi incredibili, però al tempo stesso è secondo me estremamente piacevole e ti viene voglia di berlo. E ti viene voglia di berlo, per cui se non lo possiamo definire proprio fine fine fine, però ci siamo ben quasi fine, insomma. Con dei bei riconoscimenti, non li starei neanche a dire, possiamo magari dire le cose più particolari che viene fuori dopo che abbiamo lasciato un po' il vino nel bicchiere, perché io la cipria immediatamente non l'ho sentita, adesso invece la noto. E poi nei frutti rossi io bevo quella prugnetta, la prugna... I frutti ci sono tutti, quelli rossi, che poi sono i tipici di questa vitignia, vogliamo ricordare. Andiamo a degustarlo proprio in bocca questo vino. Un vino sicuramente secco, anche con la sua freschezza. è nata 2011, quindi si presenta anche un vino, per essere un giovane, un vino che fa solo acciaio e quindi in conseguenza non è stato messo dei riconoscimenti di tipo terziario, anche nei sapori. Ma diciamo una cosa Michela, scusa se ti interrompo, poi dopo ritorniamo nella parte più tecnica. La prima cosa che si fa riconoscere di questo vino è la piacevolezza, vero Ricchi? Cioè proprio ti dà piacere metterli in bocca, ti riempie molto la bocca. È un vino giovane, ricordiamo 2011, come ha già ricordato prima Michele, che però non è così scontroso. I tannini sono ben morbidi e c'è una morbidezza appunto che... Io questo, scusa se ti interrompo, credo che proprio adesso poi magari ne parleremo col produttore. Secondo me l'azienda ha lavorato molto su questo aspetto, cioè ha lavorato sulla prontezza, ha lavorato sul frutto, ha lavorato sulla capacità di poter andare in questa direzione con molta piacevolezza. Secondo me non ha voluto creare il classico teroldico muscoloso, lungo, con invecchiamenti lunghi, che sinceramente non se ne può neanche più, nel senso che delle volte hanno queste chiusure molto amare e bisogna aspettarli tanto, forse troppo, siccome invecchiamo, sarebbe meglio forse bere un pelino prima. Questo secondo me va proprio in un'altra direzione, va su un vino che si beve in 3, 4, 5 anni, con una grande piacevolezza e con una gran voglia di berlo tranquillamente. Secondo me non è neanche un'eresia dire che è un vino che si può bere anche in una stagione un po' più calda. Mezz'oretto di frigo è questo, non mi sembra di dire chissà quale è cosa assurda, perché comunque c'ha questo aspetto vinoso, molto piacevole. Spendiamo due parole sulla persistenza, Ricky, perché dobbiamo veramente dire che la persistenza è uno dei punti forti di questo vino. Io l'ho già deglutito ormai da un paio di minuti e ce l'ho ancora lì, ben presente in tutte le pareti della bocca. E sono poi delle persistenze molto piacevoli, rimangono tutti gli aromi che abbiamo sentito prima al naso e forse qualcosa più, una punta di liquirizia che l'abbiamo prima riconosciuta io e Michele, che ti rimane in bocca molto piacevole perché è come tenere un bastoncino di liquirizia e ti dà quella piacevolezza, quella freschezza di tenere di sapore veramente. Allora è un vino che, se vogliamo parlare dell'equilibrio, direi abbastanza equilibrato definire, perché è molto giovane ancora, quindi magari deve ancora farsi, come dicevete prima, un po' di muscoli. Una buona armonia direi, rischietta persistenza, buona persistenza. Comunque è un po' di vino un po' più fresco, proprio per me aiuta proprio, lo spinge proprio per essere bevibile ancora di più. Proprio un attimo, un passaggino, apro il frigo e chiudo il frigo. Ecco vogliamo dire che è un vino direi abbastanza fine, una buona finezza, uno stato evolutivo di pronto maturo, quindi ha ancora un po' di tempo da passare in catina, se lo vuole tranquillamente. Un punteggio perché lo dobbiamo dare, glielo diamo perché se no ci picchino, 81 punti se li merita tutti. Sì, deciso. Bravo Zeni, lo dobbiamo dire, dopo glielo facciamo i complimenti proprio in direzione. A Rudy. Andiamo adesso con il prossimo brano musicale che ci propone il nostro Samuele. Questione di sguardi, Paola Turci. Gli occhi di Paola Turci ci hanno salutato attraverso le note di questa canzone. Michele. Michele, noi abbiamo qui con noi il piacere di avere chi produce questo vino. Stiamo parlando della Cantina Zeni, stiamo parlando di Rudy Zeni, che con noi ci parlerà di questo vino e dove sta, in che zona vive. Ciao Rudy. Ciao a tutti. Ciao anche a voi. Ciao anche a voi. Qui con noi c'è anche Ricchi della Notteca del Teatro che si è prodigato in complimenti sul tuo vino. Bene, bene, bene. Mi fa un buco di piacere essere con voi e portare un po' di notizie dal Trentino. Esatto. Ricordiamo che Rudy è stato con noi a Vin Italy dove ha avuto questo suo angolo e che l'abbiamo intervistato. Noi ci siamo bevuti il mondo allo stand di Rudy, quindi ha avuto un angolo ma era un pochino più di un angolo. Anzi, se chiunque lo voglia vedere e voglia vedere in faccia Rudy lo può fare andando a visitare il nostro sito o comunque la nostra trasmissione adesso. O anche il nostro canale YouTube che vuoi ricordare a te Michele. E' Assagio Divini Channel dove abbiamo tutti gli interventi e anche del materiale in più che la gente può ascoltare, è un po' musicale. E magari anche questo. Confermo che è un bel video da vedere, da ascoltare e da cercare. Peccato che non da annusare, ma manca solo quello. Soprattutto quello in cui ci siete, dai facciamo un po' di pubblicità anche per chiunque stia cercando marito. Non so se si è sposato o meno, però ha dato... Non ancora, non ancora. Stanno cercando di braccare. Stanno lavorando sui fianchi. Esatto. Allora, parliamo di questo vino. Ricchi, gli volevi fare una domanda vero tu, subito? Ma sì. Ciao Rudy, io sono Ricchi, Drenoteca del Teatro. Oh, piacere. Ciao. Dunque, guarda, ti riassumo brevemente. Con un po' di tempo fa ero da un po' di persone a Pergine Valsugana che tu magari conosci anche quelle di Proposta Vini. Eh sì, sì. E parlavamo un pochettino dell'evoluzione del Teroldevo, comunque di quello che stanno cercando di fare molti produttori. Cioè tornare su vini un pochettino più vinosi, un po' più facili, un po' più freschi, meno pesanti. Questo secondo me è il tuo vino. Cioè il vino che ha una ricerca di piacevolezza immediata e magari a scapito di longevità estrema o comunque di non lo aspettiamo tanto lo beviamo. Cioè l'impostazione... Guarda, è una domanda, è un argomento vastissimo e ne approfitto appunto per fare una piccola pronostoria di quello che è il Trentino Viticolo. Cioè una grande regione molto vocata per un po' tutti i vini autoctoni, quale appunto il Teroldevo, la Noseola, ma anche il Marzemino a sud di Trento. La nostra azienda, l'azienda agricola Zeni, insieme al papà e lo zio, ancora negli anni Ottanta erano proprio partiti con questa grande voglia di valorizzare i vitigni autoctoni. In primis il Teroldevo, che ha avuto una grandissima evoluzione. Giustamente adesso c'è una ricerca di ritrovare le origini effettive di questi vini. Quindi il Teroldevo in primis, che già dal 1900 veniva coltivato nel vicino Camporo Italiano, dove noi siamo come azienda agricola, perché noi rappresentiamo una delle cantine forse più storiche che hanno già sempre lavorato in questo piccolo fattoletto di terra a nord di Trento, che sono circa 500 ettari che è la superficie di tutta questa grande piana. Il Teroldevo infatti ha avuto grandi evoluzioni, da un vino molto a bassa gradazione alcolica, fino ad arrivare a vini molto corposi e strutturati. La domanda di adesso è giustamente qual è il vero Teroldevo? Qual è il metodo di lavorazione in cantina e soprattutto in vigna che ci permette di esaltare le doti del Teroldevo? Perché il Teroldevo è un'uva che ha delle potenzialità enorme. C'è chi trova espressione più nel novello, c'è chi trova espressione più nei giovani, più negli invecchiati. Beh, te nel novello ci trovi una bella espressione, senza dubbio. Quindi il momento di adesso è quello di valorizzare queste potenzialità. Secondo noi, il Teroldevo ha proprio il cuore in quello che avete assaggiato voi. Nel senso, grande espressione di uva matura, di uva fresca, di ciliega, di marasca. Un tannino molto delicato e una vena di acidità che caratterizza e riassume un po' il territorio in cui nasce. Perché siamo comunque in montagna, perché partiamo dai 300 metri e arriviamo agli 800. E il Teroldevo trova espressione un po' in tutta questa altezza. Quindi proprio proposta è stato uno dei precursori, forse, di Trentino insieme a noi, della valorizzazione degli autotoni. La chiave del Teroldevo delle albere, soprattutto, è un po' l'espressione di questi grandi mutamenti di gusto e di lavorazione in vigna, che è lì il nostro grande lavoro, essendo vignaioli. Beh, sicuramente, ricordiamo appunto dove stai. Tu hai l'altra caratteristica della tua azienda e devi stare non su un piano, ma essere proprio in obliquo, quasi 45 gradi, mi sembra. Esatto, esatto, esatto. Difatti il campo rotaliano ci regala sicuramente il Teroldevo, ma spostandoci appena sulle colline avidane e saliamo in questo maso, che appunto si chiama Maso Nero, dove appunto incontriamo questo vigneto dalla fortissima pendenza e questo garantisce una grande esposizione per i grappoli, un terreno molto drenante e nell'insieme la possibilità di essere esposto quasi a sud-ovest, quindi massimo assorbimento di quella che è la luce. Ma parlando di marketing, il Teroldevo ha successo all'estero o è un vitigno che ha prevalentemente un mercato italiano? Sicuramente le espressioni del Teroldevo di una volta potevano avere esclusivamente una diffusione locale, diciamo dolomitica. Secondo me adesso può avere, avendo acquistato molta più identità, molto più legame con il territorio, può essere un vino che oltrepassa le Dolomiti, quindi può essere un po' più internazionale. Noi attualmente stiamo lavorando benissimo con l'America, con l'Inghilterra, stiamo approcciando un po' il nuovo mondo un po' più orientale, che è quello cinese, perché con questa acidità, questo tannino, si può iniziare ad abbinare anche a una cucina un po' più speziata, che non è sicuramente la nostra tipica italiana. Beh, io sulla cucina cinese ho una certa esperienza, ti posso dire che la spezzatura c'è e come, e potrebbe anche essere una soluzione, anche questa, di fare un vino morbido che avvolga le punte di spezzatura che ci sono. Esatto, penso di sì, un po' anche come tutti, un po' i vini freschi, come i vini bianchi che abbiamo in Trentino, quindi magari un ultraminer che abbina un po' queste note speziate, ma con una dolcezza, perché i mercati cinesi prediligono anche queste rotondità, un po' generale. Ma poi di questi altri prodotti, soprattutto del Trento Doc, di cui tu sei un massimo esponente, lì nella tua zona, ne parleremo poi prossimamente, perché noi avremo il piacere, l'onere, l'onore di averti ancora come ospite per il tuo Trento Doc. Quando fanno un po' più caldo, magari, con l'estate, l'estate, lanciamoci nelle bollizzine proprio a picco proprio. Vogliamo ricordare il sito internet di Zeni? Sì, www.zeni.tn.it Perché vogliamo, da non confonderci con altri Zeni produttori di vino che fanno bardolino, non c'entrano niente con il nostro Zeni di oggi, insomma. Di Trento, un'altra espressione di un altro territorio. Allora, ricordiamo che Zeni vi aspetta, vi aspetta nella sua cantina per fare delle visite, e quindi se volete contattarlo, lo potete contattare al numero di telefono, lo vogliamo dire, Rudy? Certo, certo, 0461 650 456. Ricordo anche che chi volete visitare, oltre alla cantina, abbiamo anche una piccola distilleria, perché, essendo appunto vignaioli, ci piace valorizzare quello che è la vigna, la cantina, ma soprattutto anche portare alla parte più spiritosa delle nostre uve, quali la grappa trentina. E loro non scherzano su questo aspetto, l'ho sprovato. E ricordiamo anche la convenzione che l'azienda vinicola Zeni ha avuto con la Polizia di Stato, che vi aspetta proprio all'uscita dalla cantina. Vi regalano un gadget emozionale. Allora, ti vogliamo ringraziare per aver partecipato, per aver fornito i vini, che sono stati poi il fulcro della puntata di oggi. Quindi ringraziamo Rudy Zeni, ringraziamo anche il suo babbo, Roberto e lo zio Andrea. Che li voglio salutare calorosamente, perché ci hanno colti, guarda, come fratelli nel loro stand a Vinitaly. Soltiamo la famiglia e ci ritroviamo per la prossima puntata con loro, più avanti, col caldo. Va bene, ciao Rudy, grazie mille, ti lasciamo con Rod Stewart che ci canta, non lo so che cosa ci canta, ma qualcosa ci canterà. Gargarismi. Solo salutiamo con grandissimo rammarico, ma magari anche no, Rod Stewart, giusto Michele? Sì, esatto, una bellissima voce che fa venire pensieri strani. C'è un grande, piccolo, grande aneddoto che Ricky ci ha raccontato su Rod Stewart. Mi raccontavi del grandissimo... Era bello se rimaneva fuori onda sta cosa, però... No, adesso ce lo vogliamo dire, adesso ce lo dici perché tutti vogliono sapere sta cosa. Se magari la gente concepisce con assaggi di vino, magari... Allora, Rod Stewart fece il più grosso concerto a livello numerico nella storia dei concerti live di tutti i tempi. E cioè? Superò, credo, i 2 milioni e mezzo, 3 milioni di persone sulla spiaggia di Copacamana, l'anno non me lo ricordo. Te pensa come lo vedevano quelli che stavano alla fine dei 2 milioni e mezzo? L'aspetto comunque fondamentale di quella serata, oltre al concerto, furono i 4.780 concepimenti che ci furono su quella spiaggia quella sera. Quanti, scusa? Questa è storia, 4.780. Cioè, signori, se fate fatica ad avere un figlio e volete proprio lavorarci di brutto, mettete su un disco di Rod Stewart e state tranquilli. Che i vostri spermatozoi mettono sulle scarpette da tennis e vanno dritto alla meta. È vero, Ricky? È importantissimo. Soprattutto seguite i video perché è roba grossa. È roba grossa. È roba grossa. Ritorniamo in diretta dallo studio 1 di Radio Eccaro Rubiccone. Assaggi di vini, on air, on tv, on... .it, dove in italiano e inglese abbiamo gli eventi e tutte le degustazioni che ci sono nella Romagna e anche un po' in tutta Italia. Rattroviamo i nostri personaggi, i nostri ospiti che vengono in studio e anche le nostre recensioni. E anche quelli che intervistiamo, così come quello che stiamo andando a intervistare adesso. E parliamo di Roberto Bricci, fautore, inventore, gestore e cameriere della Cantinaccia di Montescudo. Ciao Roby! Roberto! L'abbiamo perso. Roberto non l'abbiamo perso. Ah, Roberto! Ti abbiamo fatto una presentazione incredibile. Sì, ho sentito, ho sentito la presentazione, grazie mille. Almeno vuoi fare un ingresso, ma alla Rod Stewart. Alla Rod Stewart. Allora, Roberto, la Cantinaccia, cos'è la Cantinaccia? La Cantinaccia è un ristorante enoteca, con una carta dei vini, con 83 vini, 5 birre artigianali, una ventina di distillati da poter assaggiare assieme ai piatti che facciamo noi, sono i piatti della nostra terra, più qualcosa di internazionale, che può essere la carne e serviamola tagliata irlandese, piorentina irlandese e grigliata di mora romagnola, oltre i crostini, i primi, quello che uno ha voglia di fare e adesso anche il gelato artigianale. Ah, che bello! Ricordiamo che la Cantinaccia, praticamente, che cos'era, cosa si trova nella Cantinaccia? La Cantinaccia sorge nelle mura malatestiane, nelle grotte malatestiane di Montescudo, sono muri originali di mille anni fa, risalgono circa l'anno 1900-1000, e si mangia all'interno di queste grotte, siamo un paio di metri sottoterra, quindi proprio dentro le grotte del castello malatestiano di Montescudo. Ricordiamo anche che, visto che stavamo parlando di copulazioni prima, quindi di concepimenti, ci sono un paio di grottine che possono aiutare anche quello. E lì dentro, ricordiamo nel passato, sono state... Esatto, e se me lo chiedono gli metto sulla musica di Rod Stewart. Ok, molto, molto bene. Roberto, sei televisivamente parlando, sei proprio al centro dell'attenzione. Perfetto, benissimo. Ricordiamo le cene al buio, che cosa sono le cene al buio che vengono fatte? Le cene al buio sono in collaborazione con degli amici non vedenti, che ci danno una mano a servire a tavola. Si mangia in una penombra, non proprio al buio, bendati. I nostri amici non vedenti ci aiutano a sentire le sensazioni, togliendo la parte visiva che abbiamo del piatto, per cui tutto quello che stimola i sensi, che generalmente non stimoliamo. Servono l'ora a tavola, la serata è una serata divertente, molto stussicante. Sul sito ci sono ziorobi.it, ci sono anche le foto delle varie cene al buio che abbiamo fatto. Ricordiamo che se Dio vuole non sei tu che fai da mangiare, ma... Ovviamente, è Filippo, lo chef Filippo, che è anche mio figlio. E che ha questa grandissima sfortuna, va bene, apposta. È un ragazzo molto giovane, molto bravo, promettente. Gli piace molto stare in cucina e ha tanta cura nella scelta delle materie prime e di tutto quello che poi portiamo a tavola ai nostri clienti. Benissimo. Parliamo del vino di questa sera. Ah, il vino di questa sera. Un bel teroldego, molto bello, un bel corpo, una bella freschezza, di cui ne avete già parlato ampiamente voi, spero. Sì, sì, su questa. Se no vi devo farla chieda io. Tranquillo, vai un po' avanti. Vai, vai. È un vino che come abbinamento vorrebbe della carne un po' selvaggia. Siccome la carne che serviamo noi, che è irlandese, è abbastanza rossa, abbastanza saporita, ce lo metterei bene con la nostra fiorentina. Quindi una fiorentina di carni irlandese. Sì, è una carne che è un po' meno saporita di quella argentina, ma molto più saporita delle nostre carni locali. Per cui è abbastanza... È un medio fra il selvaggio e il normale, diciamo. Per cui con la freschezza del vino, col corpo del vino di questo teroldego potrebbe starci bene. Bene. Ti ringraziamo, Roby, per aver partecipato anche a questa puntata. Voglio salutare Filippo particolarmente, che sta operando in cucina. Voglio salutare la sua famosa carbonara vegetariana. Ah, pezzacolo. Chi va alla cantinaccia non può esimersi di assaggiare almeno una volta. Ci sentiamo per la prossima puntata, in cui ti prenderemo come...